Musica Bravo chiudi Ci sentono fuori? E' sonorizzata? Eccoci Allora ciao ragazzi Ciao Comunque adesso sta andando la pubblicità Perché poi andiamo in diretta sul canale di Youtube E sul sito del convento Se volete Non volete No se volete Scranchirvi la voce E fare qualcosa Poi dopo bisogna tornare serie Ci abbiamo ancora 10 secondi Ciao sono Simone sono single Cerco l'anima gemella Sì voi Questa canzone la dedichiamo a Fabio A tutti quanti non stanno ragazzi Non potevano le pallacce Non mi stai Ragazzi siamo in onda Ciao Ma è bellissimo Siamo qua in compagnia di Simone Simone Fiorenza Fiorenza Lorenza 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 che arriva da Brescia Brescia Ma Brescia 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 città Di sopra o di sotto Ah no quella è Bergamo Infatti Ma te mi sembra di averti già visto Lorenza Sei sicura Che non ci siamo già visti? No In un'altra vita parallela Può essere Su qualche Ero famosa una volta Eri famosa Eri famosa Ma perché siete qua ragazzi? Perché? Ditemelo Perché siete qua? Perché vogliamo cantare Sì ho capito Ma perché siete qua questa sera? È il compleanno della Jessica È il compleanno della Jessica Dov'è la Jessica? Jessica Rabbit Ah la Jessica Ah l'abbiamo conosciuta prima la Jessica Una topolona incredibile Simona Palleunghie Tanto loro non sentono niente E che cosa ci volete cantare ragazzi? Destinazione Paradiso Destinazione Paradiso di? Laura Pausini Laura Pausini Ma mentre siamo qua Jessica lo fa strano? Lo fa strano Lo fa strano Vicino vicino microfono Vicino microfono Lo fa molto strano Lo fa molto strano E voi come mai? Lo sapete? Perché? Parenti comuni Eh? Siamo parenti alla lontana Parenti alla lontana Ma siete abitate vicino A Brescia A Brescia Ho capito Io ti di Brescia Ma insomma Allora vi siete divertiti? Avete mangiato qua al ristorante convento? Ottimo Buono Grazie Poi dopo Ti do quello che avevamo patuito Vai Grande La Lorenza invece? Io sono arrivata dopo Quindi non ho mangiato Non hai mangiato? Però hai bevuto? Ho bevuto Hai bevuto Ti sei divertita? Hai ballato? No no Adesso scherzi a parte Non si vede Non ancora insomma E allora ci cantano questi ragazzi Simpaticissimi Dai che ce la facciamo Ce la fate? Vai Allora Cosa cantate? Destinazione Paradiso Davvero? Eh certo Questo giro tondo Doni me Chi si volta è perso e resta qua Lo so So per certo amico Mi son voltata anch'io Per raggiungerti ho dovuto correre Ma più ti guardo in giro e vedo che C'è un mondo che va avanti anche se Se tu non ci sei più Se tu non ci sei più E dimmi Perché In questo giro tondo D'anime Non c'è No Un posto per strollarsi via di dosso Quello che c'è stato detto è Quello che oramai si sa E allora sai che c'è C'è Che c'è C'è che prendo un treno che va A paradiso città E vi saluto a tutti e salgo su E freddo il treno e non ci penso più Un viaggio al senso solo Senza ritorno se non in volo Senza fermate nei confini Solo orizzonti neanche troppo lontani Io mi riprenderò Io mi riprenderò al mio posto E tu sedutore al mio fianco Mi dirai Mi dirai Destinazione paradiso Un viaggio al senso solo Senza ritorno Senza ritorno se non in volo Senza fermate nei confini Solo orizzonti neanche troppo lontani E ci sono orizzonti neanche troppo lontani Io mi riprenderò al mio posto E tu sedutore al mio fianco mi dirai, mi dirai, destinazione paradiso, c'è che c'è, e c'è che prendo un treno che va a paradiso a città, io mi prenderò al mio posto, e tu seduto agli al mio fianco, mi dirai, mi dirai, destinazione paradiso, paradiso città. Ma veramente bravi, veramente bravi, i miei compli e poi menti, ma bravissimi ragazzi, veramente, 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 Posso firmare le fotografie? Sì, benissimo, allora salutiamo anche la Jessica a casa, guardate qua, guardate qua, salutate tutti a casa, grazie per la vostra compagnia, un bacione!